Sì, tantissimo orgoglio la società puntava a questa competizione e siamo contente di essere riusciti a fare l'anno scorso un buon campionato che ci ha permesso appunto di raggiungere secondo me la massima competizione a livello europeo. For sure, for sure for this club is a pleasure and I am sure that will be a really good game. I hope that come a lot of people and they will they will grow also with us like us during the course of the in the public. So I am very happy and I hope everything will be good and I'm sure that will be a really good game. Sì, sicuramente essere stata qui anche anni fa quando ci siamo conquistati la Uno e tornare ora per me è una grande soddisfazione e soprattutto una grande emozione. Giocare la Champions, già la prima gara è stata veramente molto molto bello ma giocarla in casa mercoledì sarà veramente emozionante soprattutto perché potremo avere il nostro pubblico. rappresenta un po' il mio modo di essere, ambisco sempre qualcosa in più, ho avuto l'occasione di fare la Champions per tre anni ormai qualche anno detto fa quindi sono contenta anche di portare un po' di esperienza alle mie compagne che non tutte hanno fatto questa competizione e niente motivo sicuramente di orgoglio. sì sicuramente il Bucky Funk è una squadra una delle più forti nel mondo quindi comunque sapevamo che sarebbe stato difficile e lo è stato anche perché eravamo in casa loro e siamo stati lì tutta la partita ci ha mancato pochissimo un po' di rammarico c'è però sicuramente mercoledì vogliamo rifarci al meglio e una partita da vincere daremo tutto. Sì, questo è vero, questo è il mio terzo anno in cui ho giocato la Champions League e sono molto felice perché posso essere una di queste parti per la Monza che sono molto importanti per questo team che sono il primo anno in questa grande competizione. Quindi sono davvero felice e per essere sincero il nostro team è forte quindi sono sicuro che giochiamo un grande volley e possiamo fare qualche sorpresa. Sì sicuramente ci servirà tanto pubblico perché non sono mai partite facili perché questa competizione porta secondo me emozioni un pochettino anche più grandi rispetto al campionato normale e sono tutte partite chiave e quella con Moulouse forse l'ho ancora di più perché dobbiamo portare a casa un risultato netto e quindi aspetto tutti al palazzetto. Grazie a tutti.